Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Total Games Oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo video di Clash Royale ragazzi Innanzitutto vi volevo dire che sono stato assente per 3 ore perchè non stavo tanto bene Avevo la tosse e robe cimi, un po' ce l'ho ancora adesso ma... Cioè, non è vero praticamente, ce l'ho pochissima E ragazzi praticamente oggi come avete letto dal titolo vi mostrerò molte ma molte nuove carte Sia del nuovo aggiornamento di Clash Royale che... No, non so se riscopro qualche carta del nuovo aggiornamento, si ve la mostrerò Ma in particolare questo video tratterà, cioè vi farò vedere le nuove carte che ho trovato nelle ceste Ragazzi innanzitutto qua, guardate qua, il baule gigante ragazzi Incredibile, ho vinto 2 a 0 contro 1 e mi ha dato il baule gigante Mancano 2 ore e 45 minuti, spero di farvelo portare... Ehm... Sì, forse... No, non riesco perchè devo andare via dopo Quindi non riesco a portarevelo Però comunque vi farò vedere cosa ho trovato E quindi ragazzi, in questo video vi farò vedere appunto nuove carte che ho sbloccato Che sono? Andiamo subito a vederle La torre infernale l'ho sbloccata esattamente 2 minuti fa Nella... Aspettate eh Nella... Nel baule omaggio ragazzi Ve lo giuro si trovano più cose nel baule omaggio Che nella silver Ve lo giuro ragazzi Oltre a questa, partiamo dal basso Ho trovato la tesla Che mi sembra che nell'ultimo video non ho fatto... Cioè non ce l'avevo la tesla Il rocket non ce l'avevo La barbarian ad... Queste qui ce l'avevo tutti Ehm... Allora passiamo a queste qua Che è il mio mazzo da battaglia Che è... Abbiamo trovato il gigante scheletro ragazzi Tanta roba L'arco X E l'orda di minions ragazzi Guardate il costo medio di alisir 4,8 È tantissimo Ma ragazzi questo deck è una bestia Poi ho anche lo spawn deck Che è questo qua Eccolo qua Lo spawn deck Molto... Molto buono come deck Perché comunque è forte Perché alla fine con la furia ragazzi Se si mettono tante casette Tipo la barbarian hut Insieme alla tombstone Insieme alla goblin hut Ragazzi fa il bordello Metteteci la furia Ragazzi di sicuro distruggete almeno una torre Ragazzi Questi erano un po' Gli aggiornamenti E adesso passiamo Gli aggiornamenti Delle mie nuove carte Che ho sbloccato E adesso passiamo un po' A quello che è L'aggiornamento Che hanno fatto Su Clash Royale Praticamente Hanno aggiunto Nuove carte Che purtroppo Adesso non riesco a farvi vedere Allora Andiamo a vedere Allora 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 Ragazzi Vedete qua C'è una carta Esagonale Che non ha 4 lati Ma ne ha 6 Questa qui ragazzi Vedi Puoi trovarla solo nell'arena 5 Superiore E' una carta Leggendaria O rara Comunque una di quelle nuove Dell'aggiornamento Ragazzi Poi Adesso vi farò vedere Un po' Le carte Bene Cioè Ve le farò vedere Proprio nei dettagli Ehm No Poi l'arena 6 Non credo che ci sia Ecco ragazzi Qua Guardate Si trovano I Gigante I Tre Moschettieri E Altre nuove carte Che adesso vi mostro Vi mostro bene Nei dettagli Ecco ragazzi Questa Ehm 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 Diciamo la caratteristica Le Le diciamo Sì diciamo le caratteristiche E le potenzialità Ah figa Ora non mi viene niente da dire Le potenzialità Le caratteristiche Dei tre moschettieri Ragazzi Come potete vedere qua Costano Dieci Di elisir Ma ragazzi Guardate qua Qua a sinistra Sono tre moschettieri Che costano appunto Dieci di elisir Fanno Cento Di danno E Novanta Di danno Al secondo Quindi davvero forti Poi di vita Hanno 340 Il target Che sarebbe Ehm Dove puntano Ehm Sia nell'aria Che Terra Credo Poi il raggio 6,5 Il count Che non si sa che cos'è Il display Vabbè Comunque Potete leggere qua E ragazzi Ehm Questo è una delle carte Muove E' rara Ragazzi Però appunto Si troverà solo Dall'arena 6 Mi sembra In su Forse anche Dalla 7 Adesso non mi ricordo bene E ragazzi Adesso passiamo A quello che è Il gigante Quello che è appena uscito Nuovo Ecco ragazzi Questo sarà Cioè E' il gigante Reale Diciamo Qua sono sul sito Del Sneak Peaks Della Supercell Che Praticamente è uscito ieri L'altro ieri Mi sembra l'aggiornamento Però ancora ci sono Le sneak peek Siccome io Non sono tanto bravo Ad editare Cioè Non mi fa mettere La mia applicazione Che uso per editare Non mi fa mettere I video Praticamente è una cacca E' una merda Non mi fa mettere I video Dentro altri video Cioè In una parte In tutto il video Non posso inserire Un pezzo Una parte di video Dentro quel video Spero che avete capito Ragazzi Comunque Appunto Questo Questo E' Il gigante Il gigante Reale Royal Si E' un gigante Reale Ecco qua Il Royal Già Tradotto Il gigante Reale E' una carta Comune Particolarmente Resistente Ma alquanto costosa 6 Elisir E avrà Punti E salute Pari a 1200 E infliggerà 40 danni al secondo Ragazzi Ha molta Molta vita E ragazzi Vediamo che non è come Il gigante Normale In clash of clans In clash of clans Tra l'altro E' una carta Comune Si che l'ho già detto E appunto Non sarà come Il gigante Di clash of clans Perché Questo Gigante Reale Avrà un cannone Che sparerà Ehm Alla torre O a quello Che No Il gigante Sparerà solo Alla torre O in questo caso Alle due torri Una delle due Oppure Al re In mezzo Cioè attaccherà solo Le difese Non attaccherà le truppe Però ragazzi E' molto forte E quindi adesso Passiamo con Un'altra carta Ecco ragazzi Passiamo Alla Veleno Perché ragazzi Hanno aggiunto La porzione Veleno Come in quella Di clash of clans Ma Con Un'alternativa In più Cioè che Colpirà Sia le truppe Le truppe Si Dell'avversario Ovviamente Ma anche Gli edifici Le difese Quindi in questo caso La torre Dell'arciere E Se magari Ha poca vita E colpirà Anche il re Ecco Diciamo così E ragazzi E' davvero potente Perché se Non la potrete Contrastare con niente Perché appunto Non è una truppa E ragazzi Appunto Se per esempio L'avversario Ha 26 La torre dell'avversario Ha 26 di vita O anche 100 Mi sembra Non so Adesso quanto toglie 45 Però comunque Ragazzi E' forte E appunto Se avrà 100 di vita Per esempio L'attore La distruggerà E appunto Comunque E' molto Molto Figata Perché appunto Colpirà Anche Le difese Insieme Anche alle truppe Ma adesso Passiamo Al Dark Prince Che sarebbe Come il principe Ehm Come il principe Normale In Clash Royale Solo che Sarebbe Il principe Nero Praticamente E' uguale Al principe Normale Solo che Al posto Della lancia Avrà una mazza Mi sembra E uno scudo Che si coprirà Con I I primi danni Che ci faranno L'avversario Perché se per esempio Io metto questo principe E l'altro mette Il cavaliere O qualunque Altra truppa L'altra La truppa Dell'avversario Attaccherà Il principe Nero Ma per Due secondi Per No stico Non c'è scritto Boh Non c'è scritto E praticamente Ehm Si difenderà Dagli attacchi Ehm Che subirà Per Un pochino Dopo Vedete qua Che c'è Uno scudo Che cade Per terra E appunto Si coprirà Dagli eventuali Attacchi Iniziali E dopo Attaccherà E L'avversario Potrà colpire Con le sue truppe Ancora il principe Però è davvero È una genialata Passiamo A un'altra Carta Questa volta È una carta Leggendaria E ragazzi Questa È la Principessa Esatto ragazzi È tipo Una regina Come in clash of clans Appunto Sarà È una Regina È come una regina In clash of clans E sparerà Ehm All'inizio Dei ponti Vedete qua Che guardate Ha 9,5 Di Ah no Questo Cosa sto dicendo Questo è No 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 Si Ha 9,5 Di Ragio Che può Dove può colpire E ragazzi È davvero Forte Perché comunque Non è male E costa solo 3 di elisir Però ha una scarsa Vita Perché ha solo 240 E Però È forte Passiamo A un'altra Carta Molto Ma molto Figa Da parte mia Ragazzi È L'ice Wizard Lo stregone Di ghiaccio Ragazzi Questa per me È la carta Più figa Che hanno fatto Di clash Royale Praticamente Questo è un mago Appunto Come dice il nome Un mago Uno stregone Un mago Si Di ghiaccio E scaglierà Delle Scaglie di ghiaccio Si Delle schegge di ghiaccio Ecco Diciamo così E praticamente Rallenterà Anche L'avversario Ce lo farà Rallentare Quando va La sua velocità Normale Lo rallenta Vabbè Avete capito Lo rallenta Ed è vero Una figata Guardate Come è fatto Di faccia È tutto Blu Azzurrino Bianco Le sopracciglia Ma comunque È una figata Perché appunto Rallenta Anche l'avversario Quando lo colpisce Con le sue Schegge di ghiaccio E quindi È davvero Una figata Assurda Ragazzi Incredibile Abbiamo 15 gemme E possiamo Aprire il baule gigante Ragazzi Purtroppo Non lo posso Non credo Che rifarò Un video Solo per il baule gigante Quindi ragazzi Ci spendiamo 15 gemme E ci apriamo Insieme a voi Apro insieme a voi Il baule gigante Ragazzi 3 carte Mamma mia 1068 Di oro 11 goblin 14 razzo Che non mi serve a niente E il cavaliere E il cavaliere 111 Ragazzi Non è andato È proprio benissimo Pensavo che conteneva più carte Ecco perché È ancora meno Della Magical chest Perché almeno Questa qui contiene Due epiche Più 12 rare Questo qui Sono 16 rare Ma non credo Perché non c'era Neanche una rara E ragazzi 145 5 su 20 Del cavaliere Mamma mia E quindi ragazzi Questo video termina qui Vi lascio Con il mio deck Con i miei Altri 3 deck 2 Perché alla fine Sono quasi uguali Gli altri Gli altri Questo è lo spawn deck Se volete provarlo Questo è il mio deck Che sto usando Ora Ragazzi Io vi consiglio Vivamente Di Sbloccare L'arco X Perché è una best Ragazzi Ho fatto Un attacco E ho vinto Ho fatto Due stelle All'avversario Grazie solo All'arco X Perché colpisce Anche A distanza Come la principessa Come la principessa E anche Colpisce le difese Appunto Se come la principessa Che vi ho mostrato Prima Che costa La carta leggenda Che costa 3 E si Praticamente È uguale Perché attacca Anche le difese Però purtroppo Che costa 6 Però è straforte Ragazzi Ho fatto due stelle Con quella E quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi Mettete like E quindi Noi Ci vediamo Al prossimo video Video Ragazzi Grazie a tutti